Segui La7 anche su Instagram, La7 ovunque con te. Pochi secondi, dettagli, diciamo così, e che tutto andava bene, non c'era nessun problema contro Di Maio, insomma, e poi invece esplosa un'altra situazione, un altro racconto. Questo mi spaventa, la sottovalutazione e la incapacità della lettura, cioè, voglio dire, io mi porrei un problema, se fossi in Conte, vedendo che appunto non è Di Maio e una decina di amici, come ci avevano etichettato, ma 62 persone, 62 persone con storie, con provenienze geografiche, con, insomma, esperienze. Anche esponenti storici come lei, Maglio Di Stefano. Anche di più anni, più di me, cioè, io mi creerei un problema, oggi leggevo le ricostruzioni che, se sono vere, sono veramente per loro poco dignitose, di persone che hanno brindato al fatto che andassimo via, che hanno aperto il bottiglio. Contenti loro, a me fa piacere, alla fine, non lo so, ne resterà uno di loro, è l'ultimo che esce e spegne la luce, ma non lo so, però davvero è complicato pensare che Conte e i suoi non riescono a fare una lettura critica del fatto che il nuovo progetto, di fatto, non è mai partito, non sta avendo consensi e sta perdendo pezzi che non sono solo i pezzi parlamentari, ma pezzi nel paese, le campagne elettorali di Conte, al netto della Sicilia, dove effettivamente, con onestà va detto, c'erano tante persone in piazza, ma nelle altre regioni è stato un disastro. Non c'è neanche più l'effetto Conte dei primi mesi post-governo che riempiva le piazze e comunque non le urne. Adesso non riempie nelle piazze e nelle urne. Senta, Di Maio, indubbiamente...